Le sedute del 10 e 17 luglio Per la scuola materna di Medolla Sette giorni in consiglio Durante la seduta del mattino del 17 luglio il Consiglio regionale ha approvato la delibera che prevede lo svolgimento della consultazione popolare per istituire il comune di Mappano Il referendum verrà convocato con atto successivo del Presidente della Giunta regionale Nel pomeriggio l'Assemblea ha iniziato il dibattito generale sulla nuova legge urbanistica ed ha approvato quattro ordini del giorno presentati da tutte le forze politiche per mantenere i tribunali minori del Piemonte Nella seduta del 10 luglio il Consiglio regionale ha commemorato il senatore Sergio Pininfarina I lavori sono proseguiti con approvazione dell'ordine del giorno sull'Unione Europea e con la decisione di creare un tavolo di lavoro per rivedere lo statuto, la legge elettorale e il numero dei consiglieri Nel pomeriggio sono state svolte la discussione sui provvedimenti relativi alla lingua dei segni e le relazioni alla riforma dell'urbanistica e le relazioni alla riforma dell'urbanistica